E' arrivato il giorno del primo scontro diretto per la zona alta della classifica. L'Avellino questo pomeriggio scenderà sul manto erboso dello Scida per affrontare la capolista Crotone di Mistellerda. Gli Irpini, nelle ultime quattro gare ufficiali, hanno rimediato tre vittorie, segno evidente che qualcosa è cambiato tra le file della squadra bianco-verde, che ha cominciato a dimostrare di aver consapevolezza delle proprie forze. Certamente c'è ancora molto lavoro da fare, in primis per sbloccare il reparto delle punte, perché, al di là delle due reti di russo esterno d'attacco, l'Avellino pecca quando si tratta di reti realizzate da fronte offensivo. Trotta, Gambale e Murano sono ancora bocca asciutta e bisogna fare in modo che questo trend cambi rapidamente. Al tempo stesso altre valutazioni vengono fatte sul lato di sinistra della difesa. Se Auriletto in queste giornate è stato schierato nel ruolo di terzino-sinistro, con il rientro di Zona Andrè e Tito potrebbe cambiare qualcosa. Auriletto ha dato solidità in fase difensiva, spingendosi anche a volti in avanti per supportare l'azione. Al tempo stesso, però, Zona Andrè sembra avere qualità in quella zona del campo, ed è per questo che potrebbe essere preferito al difensore ex Provercelli. Al centro della difesa, al contrario, non dovrebbero esserci dei cambi, con Moretti e Aia titolari e Ianes pronto a subentrare. Tornando sulla probabile formazione, l'Avellino dovrebbe scendere in campo con i 4-3-3, dando continuità al modulo che è finora dimostrato di essere nelle corde dei giocatori. Confermato tra i pali Marcone, dopo la staffetta in Coppa Italia che ha visto pane esordire titolare in questa stagione. La difesa dovrebbe vedere scendere in campo con Ricciardi nel ruolo di terzino-destro, Moretti e Aia come coppia di centrali difensivi e Zona Andrè come terzino-sinistro. Al centro campo dovrebbe tornare Dall'Oglio dal primo minuto, che scenderà in campo insieme a Franco nel ruolo di regista e Casarini-Mezzala. Da non sottovalutare la possibilità di vedere Matera al posto di Dall'Oglio. In avanti, nonostante le parole d'encomio rivolte a Giacomo Murano, Taurino probabilmente opterà per Russo e Ceccarelli a supporto di Trotta. Ovviamente non perdete l'appuntamento con Stati Studio in diretta dalle ore 17.